La legge di riordino del settore dell'artigianato approvata ieri dal Consiglio regionale della Calabria rappresenta un'altra importante tappa nell'attuazione del nostro programma e quanto afferma in una nota il Presidente dell'Aggiunta regionale Mario Oliverio. Essa, prosegue Oliverio, riconosce il ruolo strategico delle imprese artigiane all'interno di un quadro di riferimento adeguato alle mutate condizioni economiche del Paese e della Calabria. L'artigianato rappresenta un settore vitale dell'economia regionale. Sono emblematici i dati relativi al numero delle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane in Calabria, circa 35.000 imprese operanti nella nostra regione. La legge approvata tutela la professionalità di imprenditori e addetti, valorizza la produzione artigianale nelle sue espressioni territoriali, produttive dei servizi, con un'attenzione particolare a quelle tradizionali e artistiche. Prevede inoltre un ruolo di competenze radicate sul territorio, con la previsione di un contrassegno di origine e qualità, quale segno distintivo dell'artigianato artistico tradizionale. Finalmente, quindi, anche la regione Calabria si dota di un quadro normativo di settore moderno e innovativo, che supera la polverizzazione fin qui esistente di norme superate nel contenuto e spesso contraddittorie. L'approvazione di questo importante strumento legislativo, conclude il presidente dell'Aggiunta regionale, consente infine un più rapido utilizzo di importanti risorse finanziarie.